Roby Facchinetti, ospite al Sabato del Convento. Benvenuto Roby. Ciao. Bentrovati, ciao a tutti. Buon pomeriggio a voi. Grazie. Allora, vogliamo partire dal tuo ultimo progetto discografico, Symphony, uscito il 26 novembre. Sesto album da solista, 100 minuti di musica, con grandi successi della discografia dei Poo e dei tuoi album. Un lavoro da cui davvero emerge la grande voglia di continuare a fare musica perché la musica continua ad essere la tua vita, Roby. Beh, la musica ho dedicato la mia vita e continuo a dedicare la mia vita alla musica. Io due anni fa avevo fatto questo progetto musicale inseguendo la mia musica. Però è anche vero che quando mi distraggo, mi capita spesso di distrarmi, è la musica che mi cerca. Perché quando hai dentro, poi io ho scoperto questa magia, no? Che è un mistero la musica e io non finirò mai di capire. La musica fino in fondo, quello che provoca poi la musica, no? Perché sa emozionare, ci fa viaggiare, ha la potenza e la forza di staccare, di farci staccare dalla realtà e portarci lontano. Allora, quando tu dedichi, come dicevo appunto prima, la tua vita alla musica, poi io penso realmente che sia la droga più potente. Perché quando ti entra dentro non va mai via. E anche per questo che io fino a quando avrò il dono della fantasia, della creatività, io non posso che continuare a fare musica. Dicevi prima appunto di questo progetto Symphony che è uscito a novembre ed è stato realizzato, sono riuscito a realizzare questo mio sogno che avevo nel cassetto da tantissimi anni, no? Poter riprendere i classici brani che io ho composto con i PUC, anche ho inciso con i PUC e farli in versione sinfonica. Voi pensate che in questo progetto ci sono ben 200 elementi fra musicisti e coristi. Finalmente l'ho realizzato e devo dire che sono riuscito ad arrivare a quello che era il mio traguardo, no? Quello di cercare, se non altro, di dare una nuova vita a questi classici. Prima abbiamo ascoltato appunto noi due nel mondo dell'anima e pensiero, in questa versione chiamiamola sinfonica, tratto da sinfoni ed è lo spirito è appunto quello di poter dare a questi grandi brani una nuova, ripeto, una nuova vita, un nuovo percorso. Continuiamo a parlare un po' di questo progetto, Sinfoni, che è diventato anche un tour, il cui debutto è avvenuto il 22 marzo 2022 al Teatro Doninzetti a Bergamo. Ecco, tu hai definito quella serata una serata di grande respiro. Che ricordi hai? Perché, beh, non a caso ha voluto ricominciare da Bergamo, dalla mia città, che come si sa, è una città che ha sofferto molto, che ha avuto e purtroppo continua ad avere questa negatività e questo primato di negatività, perché se ne sono andate oltre, e poi parlano addirittura di 10, 11, 12 mila persone che se ne sono andate con, purtroppo, grazie a questo stramaletto Covid, e dovete pensare che non c'è una famiglia a Bergamo che non abbia comunque, no, o direttamente o indirettamente, avuto, che non sia stato colpito da questa brutta bestiaccia. E allora ho voluto ricominciare con la musica, e come dicevo prima, che la musica è sempre comunque la migliore medicina, proprio dalla mia città, per dare questo segnale, no, di rinascita e di voler, senza dimenticare, per carità, perché è impossibile dimenticare quello che è accaduto nella mia città, però bisogna pur guardare avanti. E lo spirito era un po' anche questo. Ecco perché ho voluto iniziare questo tour teatrale di sinfoni partendo proprio dalla mia città. Scritta a quattro mani con Valerio Negrini, con Uomini soli, avete trionfato a Sanremo. Sono passati 32 anni, ma l'emozione non si è sbiadita, come hai scritto tu stesso su Facebook. Beh, questo è un brano che ha un'anima veramente molto 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 speciale, e poi c'è questa invocazione a Dio che ci dia una mano, in questo nostro difficile mondo, e poi guarda, mentre lo ascoltavo, e devo dire che è un brano attualissimo per quello che sta accadendo purtroppo nel nostro mondo, fa dall'altro al di là dei nostri mari, e ci vorrebbe, frate Francesco, ci vorrebbe veramente una grossa mano dall'alto in questi momenti. Per cui questo brano, devo dire che è attuale, nonostante il fatto che siano passati tanti anni, però è ancora attuale, e oggi ancora di più. Hai proprio ragione, insomma, speriamo davvero di riuscire a vedere la luce di una pace che rifiorisce presto, non solo nei nostri cuori, ma soprattutto nei cuori di quelle persone che al momento stanno solamente creando distruzione e paura, e ne abbiamo veramente bisogno. Ecco, Roby, tu hai detto poco fa che la musica è sempre la migliore medicina e la cura in cui rifugiarci, soprattutto un vero e proprio inno alla vita, eh Roby? Assolutamente. Poi, come si diceva un po' prima, questo è nato veramente in uno dei momenti più dolorosi per la mia città, dopo che abbiamo visto, come abbiamo visto tutti, ed è diventato purtroppo un simbolo, no? La famosa fotografia di questi carri del nostro esercito, che portavano via le bare dei nostri cari. E noi eravamo barricati in casa, in lockdown, ancora non si capiva bene che cosa stesse accadendo, ed eravamo tutti impauriti, terrorizzati, commossi. E quella fotografia, quei carri, di quei carri è stato veramente qualcosa di devastante. Teichisi ha veramente aiuto alla musica, perché ero completamente devastato dentro, ripeto, dalla paura, dal terrore. Poi io ho dei figli, dei nipoti, dei parenti, già avevo, in quei giorni, avevo perso due dei miei parenti, proprio di Covid, per cui era, credetemi, eravamo tutti terrorizzati. Andai nel mio studio, qui a casa mia, e ascoltai la musica, dopodiché andai al pianoforte, e credetemi, inconsapevolmente. E questo è un brano che, se io dovessi dire la verità, avrei dovuto depositare questo brano, compositore ignoto, perché è stato frutto veramente di un'ispirazione assoluta. E quando, devo dire, i brani nascono dal profondo, dall'ispirazione più forte, più vera, devo dire che poi nascono queste melodie, nascono questi brani, e che hanno, come si diceva un po' prima, veramente la forza poi di entrare nello stesso modo, nel cuore di tutti. Io credo proprio che sia così, perché non esiste un'altra ragione. L'ispirazione profonda non appartiene a me, non appartiene a nessuno, appartiene a un qualcosa di magico, di sconosciuto. Io mi sono ritrovato questa melodia, e alla fine ho detto, ma io non, come è possibile? Non è, non è mia volontà, non è la mia volontà di fare, di comporre un brano, ma è successo, è accaduto. E pensate che siamo riusciti, stando ognuno a casa nostra, in cinque giorni, che era una cosa veramente impossibile poterlo realizzare. Abbiamo realizzato anche il filmato, abbiamo visto, no, questo filmato con i medici, gli infermieri, gli operatori del nostro ospedale Giovanni XXIII, e in cinque giorni l'abbiamo realizzato, l'abbiamo poi messo in rete, e credetemi, anche lì è accaduto un altro miracolo, perché in pochissime ore questo brano, cantato da me in italiano, arrivò in ogni angolo del mondo. E adesso siamo a circa 30 milioni di visualizzazioni, insomma, per cui siamo, è accaduto qualcosa di straordinario. In punta di piedi, Robby, ti facciamo questa domanda. Il Covid ha strappato alla vita un grande amico e musicista, Stefano Dorazio. In Sinfoni c'è un brano al quale tu sei molto legato, quale? Guarda, Stefano, uno degli ultimi brani suoi, era appunto a proposito di Io rinascerei, rinascerei, che il testo lo ha scritto lui in pochissime ore, dopo che avevo mandato la musica, io ho detto, guarda, voglio dedicare questo brano alla mia città, e lui in pochissime ore scrisse questa poesia straordinaria di Rinascerei, rinascerei. Quest'altro brano, che noi componemmo un po' di anni prima, e desiderava Stefano che io lo inserissi nel progetto mio precedente, e promisi a Stefano, guarda, questo è un brano che ora me lo stai chiedendo ora, ma non ce la facciamo, non ce la faccio a inserirlo, però ti prometto che al prossimo progetto questo brano sarà il primo della lista. E così è stato. Questo brano si intitola Grande Madre, e si rivolge alla più grande delle madri, che è appunto Maria, ed è una vera, autentica preghiera. Questa musica è mia, ma il testo è ancora di Stefano Dorazio. Ed è toccante, emozionante, perché anche questa preghiera, devo dire, che è assolutamente attuale, anzi attualissima, ripeto, mai come in questo momento, c'è bisogno veramente di invocare aiuto, nel vero senso della parola, come appunto in questo brano che si intitola Grande Madre. Una curiosità, è vero che tua nonna materna Margherita era molto religiosa, e quando eri con lei da piccolo ti faceva pregare. Ecco, è... Era molto religiosa, religiosissima. Lei, lei, quando, e devo dire che ho passato buona parte della mia infanzia proprio da nonna Margherita, perché essendo il primo nipote, figurati, lei alle sei ogni sera diceva il rosario, e anch'io con lei, con alcune vicine, insomma, c'era sempre qualcuno, perché lei alle sei puntualmente, ogni giorno, recitava il rosario. e per addormentarmi poi la sera mi faceva pregare. E ti devo confessare una cosa, che questa bella abitudine della preghiera, perché altrimenti io non mi addormento, e ogni sera io prima di addormentarmi prego, e mi concilia, devo dire che oltre che comunque mi fa bene spiritualmente, però concilia il sonno, perché mi è rimasto questa abitudine che mi ha regalato, perché è un bellissimo, trovo che sia un bellissimo regalo, mia nonna. Ti stavo infatti chiedendo qual è il tuo rapporto oggi con la preghiera. Beh, guarda, il rapporto che è giornaliero, perché io ogni sera prego, e poi devo dire che ci sono poi nei momenti della vita che c'è bisogno di pregare, ecco, sempre per il famoso discorso di cercare di chiedere un aiuto dall'altro attraverso la preghiera. Anche questa abitudine devo dire che ce l'ho e mi rimane. Grazie Roby. Prima di lasciarci ecco, voglio rivolgere anche a te l'invito se non riusciamo a vederci prima del 5 settembre data in cui ecco, noi abbiamo istituito la giornata di spiritualità e di fraternità per gli artisti ed è una giornata appunto vissuta, ci auguriamo di viverla bene qui proprio a San Giovanni Rotondo all'ombra di Padre Pio. Quindi anche per te il nostro invito ufficiale ad essere presente compatibilmente con i tuoi impegni. ma guarda grazie per l'invito e se non non sono in Uganda non so se la vita mi porta magari in quei giorni lì di andare in Uganda vi prometto che ci sono anzi con la gioia assolutamente di esserci. Grazie. io ho anche dei noi abbiamo fatto abbiamo fatto come pu con credo nel 90 suonammo davanti al vostro ospedale con per Teleton in occasione di Teleton e poi facciamo un bellissimo concerto davanti alla vostra cattedrale e adesso non c'è tempo però andiamo nella vostra chiesetta a visitare Paraderipio sì e abbiamo anche una foto che la regia fra poco manderà in onda che vi ritrae proprio nella chiesetta antica insieme con un nostro padre grazie che bello grazie a voi è stato veramente un grande grande piacere una grande gioia aver fatto questa diretta con voi questa caccherata bellissima e spero proprio di esserci il 5 settembre vero? ti aspettiamo sì grazie 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 a voi un abbraccio ciao ciao Robby e grazie anche a Valentina Facchinetti che ha fatto un po' d'agancio a questo collegamento e allora noi ci fermiamo qualche istante lì nella regia poi ancora insieme per la terza parte del sabato del convento